La nota di aggiornamento del documento di economia e finanza predisposta e approvata ieri dal governo con gli obiettivi di finanza pubblica sul triennio 2024-2026 tiene in considerazione alcuni fattori di rischio macroeconomici, quali la complessa situazione economica internazionale, l'impatto della politica monetaria restrittiva con l'aumento dei tassi di interesse come strumento principale di lotta all'inflazione e ancora le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro della finanza pubblica riflette così un'impostazione particolarmente prudente che riflette a ribasso le stime di crescita per il prossimo biennio, particolarmente debole quest'anno con una crescita del PIL attesa allo 0,8%. Il deficit all'opposto è atteso in crescita al 5,3% per il corrente anno per poi calare progressivamente fino a una proiezione al 2,9% per il 2026. Le esigenze di intervento sono conseguenza soprattutto del rallentamento dell'economia, ancora di fronte a un'inflazione molto più rigida delle attese seppure in contenimento rispetto ai picchi raggiunti nei mesi precedenti, ma questo impone per il Governo la necessità di proseguire con politiche di sostegno ai redditi reali delle famiglie, soprattutto quelle con redditi più bassi. E quindi il documento è particolarmente importante in quanto delinea i principali ambiti di intervento della manovra per il prossimo triennio, quali la conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro, l'avvio della riforma fiscale, il sostegno alle famiglie e la conferma degli investimenti pubblici. Oggi il contenuto della Nadef si è misurato con i mercati finanziari e l'accoglienza è stata piuttosto tiepida, con una ripresa della volatilità dello spread dei BTP decennali rispetto ai comparabili titoli tedeschi fino a 200 punti, ai massimi da circa un anno e mezzo, che ha portato il rendimento dei titoli italiani alle soglie del 5%. I mercati incorporano quasi immediatamente l'area di tensione e quindi reagiscono con una maniore fiducia verso i titoli del debito pubblico. Siamo davvero più a rischio di qualche mese fa? La valutazione degli analisti internazionali è fondata su elementi di debolezza strutturale del nostro paese, acuiti dall'emergere di un deficit maggiore di quello previsto? Oppure è un risultato un po' a caldo e temporaneo? Forse è presto per dirlo, ma certamente i prossimi passi del governo saranno ancora di più sotto la lente di ingrandimento e l'attenzione dei mercati internazionali.